Che bello, e dobbiamo fare solo una, perché visto che sono così attenti mi scappa quasi l'onda di farne un'altra, mi scappa troppo, e me la pipì, non l'ho conosciuta niente. Se ci dici come fare, magari... Eh, non saprei, non saprei. Vuoi? Eh, però bisogna che mi serve quella cosa da, eh? Ah, sì, come si sa? Luca, corri, 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 corri. Sì, vuoi mettere delle richieste particolari? Guardare, guardare, chissà. Questa vi piace? Avete capito che cos'è? Avete capito che cos'è? Vi piace? Lo possiamo fare? Ok. Allora, ecco, arriva il mio corpo. Un applauso, Luca! Vamos! Che arriva un'altra icona. waspia? Grazie. 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 Grazie.